Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video qui dal vostro XBreeze Analizziamo la sconfitta subita contro l'Australia ATP GAP 2022 Italia-Australia 2-1 per i padroni di casa Partite brutte, a parte quella di Jannik, non ha giocato contro Duckwood ma contro Max Purcell Ha vinto meritatamente, ma secondo me era anche abbastanza scontato Quella di Berettini invece è stata veramente molto brutta Io però ieri l'avevo detto, bisogna stare attenti Tornata all'infortunio, Edminaur gioca in casa Spinta del pubblico, spinta di tutto Poteva sicuramente metterlo in difficoltà, lo ha fatto Scambiando molto velocemente, andava sempre sul rovescio Berettini non ha avuto il rovescio oggi, possiamo dirlo Non ha praticamente giocato nulla di rovescio Di dritto ha fatto vedere qualcosa, il servizio non ha molto aiutato Matteo Quindi se facciamo, tiriamo le linee dei vari puntini Possiamo vedere un 2-0 Edminaur con un secondo set Dove Matteo stava sotto di un break, ha recuperato E poi al tie break comunque Edminaur è riuscito a portarsela a casa Però io già ero diciamo consapevole di questa cosa Che Matteo forse poteva avere qualche difficoltà La cosa che non me ne capacito è il doppio L'Australia ha un bel doppio, l'ho detto anche ieri molto solito Pierce e Savaglie sono bei tupisti, bei giocatori E noi stiamo giocando con Bolelli e Berettini Non ho ben capito questa scelta, magari voleva in qualche modo Dare minuti a Berettini, farlo magari rientrare al 100% Dagli più spazio Comunque il doppio non è poi così stancante come il singolare Però io coach, coach, ti dico solo una cosa Sull'uno pari tu mi fai entrare a Berettini Ma io sono sicuro al 100% che non pensavi che Berettini ti facesse vincere la partita Perché tu lo sai come sta Tu l'hai fatto giocare solo perché doveva recuperare in qualche modo a prendere minuti di gioco Se volevi vincere mettevi Yannick Sinner Mettevi Sinner e Berettini al massimo O Sinner Bolelli perché alla fine Simone ha fatto quello che ha fatto Va bene Mi dispiace, mi dispiace perché comunque il primo set al doppio è volato via Ok sì ma il secondo set si poteva andare benissimo a un tiebreak Anzi si poteva addirittura breccare Pierce e Savaglie Che dall'altra parte stavano veramente spingendo un sacco Ho visto smash tirati da non so dove perfetti Però loro avevano questa foga incredibile E i nostri stavano praticamente non lo so addormentati nel bosco Mi dispiace molto Ora la Russia ha vinto contro la Francia 2-1 ha perso anche Medvedev Non ho capito bene come abbia fatto Per la Russia ha vinto il doppio Ora l'unica nostra possibilità credo è quella di vincere 2-0 contro la Russia A questo punto e poi No, prima vincere contro la Francia E poi pregare di vincere 2-0 contro la Russia E' successo che Medvedev ha già perso contro Hubert Ma io ricordo sempre che Berettini non sta al 100% E quindi Berettini-Medvedev la vedo veramente veramente tosta E visto che passano comunque i primi Mi dispiace veramente un sacco Io ora spero che la Russia perda contro l'Australia E contro, non lo so Contro la Francia, beh, ci ha già vinto E contro di noi Però In un ideale futuristico Dove la Russia vince tutte le partite E poi si va a giocare l'ultima La qualificazione contro l'Italia La vedo veramente veramente tragica Ora io la sto andando un po' a ridere Ma vedremo poi nei prossimi giorni cosa succederà Speriamo bene per la nostra Italia Però Noti e positive di oggi Un grande Yannick Sinner E un bel ritorno di Beretta Che anche se ha giocato male Però Basta che è tornato E poi Avremo tutta la stagione Per goderci al meglio Dal vostro XB tutto lasciate un like Commentate Iscrivetevi sotto nei commenti Fatemi sapere cosa ne pensate Di questa partita Di queste partite Un bacione Noi ci vediamo in un prossimo video Bella a tutti